Io credo che la base di tecnica vocale che ci danno i nostri maestri sia molto importante e parlo veramente di base perché secondo me tutto il resto, la crescita di un cantante dipende da lui, da lui stesso, dalle sue sensazioni durante l'arco della sua carriera. Ma la base è veramente molto importante perché appena ci si sente un po' malati oppure stare un po' male o non tanto confortevoli in un certo ruolo allora si deve fare riferimento a questa base che è la tecnica della respirazione e la sensazione dei resonatori, dell'utilizzo dei resonatori che sono molto individuali. E' tutto qua!